Alivario Pinte, una corazza bianca, la lancia dorata, puntata contro un demone, protettore dal male con la grinta di Chilotta, quest'icona dell'Arcangelo Michele che saluta quanti entrano nell'ospedale di Cittadella. È il nuovo dono dell'artista Roberto Zaniolo che va ad aggiungersi all'icona di San Martino e a questa Madonna del Conforto. Cure professionali e umane, cure da parte dei volontari dell'ospedale e in perfetta atmosfera natalizia, a Cittadella ringraziano per l'arrivo di un nuovo manichino che servirà per la formazione del personale di pediatria e di due nuovi caschi Paxman per evitare la caduta dei capelli delle donne che si sottopongono a chemioterapia. Il connubio con l'associazionismo volontariato all'interno dei nostri presidi sia molto forte. Un connubio che va ad arricchire, che va a portare molta umanizzazione, che va ad essere vicino anche ai percorsi, in questo caso psicologici, umani, di presa in carico delle persone. L'arcangelo con le sue forti ali salute e benedice, un'icona che l'artista ha voluto inserire nel territorio. Ci sono le mura di Cittadella, c'è anche la villa imperiale che fa parte dell'Ulsa sempre di Cittadella, ma è anche un pensiero del mio paese di Galliera Veneta. Sullo sfondo abbiamo Bassano, Asolo e il Monte Grappa, con dipinto anche in piccolo l'ossario, che è quasi un pensiero mio, ecco i tanti soldatini, ottantenni che ho conosciuto, che lì hanno combattuto, molti sono morti. Non finisce qui. Roberto Zaniolo sta studiando un quarto progetto. Della quarta icona, se ci sarà, come penso e spero, accolta qui dall'ospedale, sarà quella dell'adorazione dei magi, quindi i magi che portano un dono. Io pensavo addirittura al reparto dove nascono i bambini, questo dono che la vita fa ai nuovi uomini. Ci vediamo allora Epifania 2021? Tu no? Spero e lo prendo come un impegno.